Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dell'abbigliamento 3 stagioni di Rub Equipment. Nel particolare abbiamo qua pantalone, secondo strato e giacca sia da uomo che da donna. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo dal pantalone, modello TORC, che è lo stesso sia per uomo che per donna. Parto subito con la vestibilità, perché abbiamo una vestibilità slim fit. Abbiamo un pantalone che veste molto stretto attorno alle nostre gambe, un pantalone che non ci dà per nulla fastidio quando andiamo a camminare e che ve lo vedremo successivamente, può essere adatto anche per fare magari qualcosa di tecnico proprio perché è bello attellato. A livello di materiali troviamo un materiale Matrix, che è molto resistente in sé proprio come materiale e poi isola veramente molto bene da vento e avendo anche un trattamento DVR un po' dall'acqua. Davvero devo dire un ottimo materiale, aggiungendo un po' che c'è tutta una parte di rinforzo su ginocchia e interno della gamba fino alla caviglia, in modo tale che se dovesse utilizzare anche magari dei ramponi e roba del genere saremmo ben protetti. Passando alle tasche ce ne sono diverse, tutte con zip di IKK. Ne troviamo in particolare due davanti all'altezza della vita, una invece sulla parte posteriore e due sul fondo per eventualmente allargare la larghezza della parte finale del pantalone per andare a ospitare eventualmente uno scarpone. Sulla vita, che è elasticizzata, troviamo il laccetto che possiamo andare a tirare per poter regolare l'elastico in vita, che poi possiamo andare volendo anche a nascondere in una specie di inserto laterale. Per quanto riguarda la termicità e la traspirabilità di questi pantaloni, diciamo che possiamo utilizzarli nel range dai 10 ai 20 gradi. Tenuto conto poi che è un range indicativo, se siete particolarmente freddolosi potreste utilizzare anche a 22-23 o se siete particolarmente calorosi anche a 7-8 gradi, non c'è nessun problema. Per intenderci comunque diciamo che un pantalone tre stagioni dove la traspirabilità è abbastanza alta, magari un pochino meno la termicità, però come dicevo a livello di utilizzabilità vanno bene veramente per trekking, vie ferrate, un po' di alpinismo, poi dipende sembra anche dalla temperatura che si trova, però sì è davvero un ottimo pantalone realizzato molto bene con degli ottimi materiali e poi alla fine recensione e alla conclusione vedremo anche il suo prezzo. Per quanto riguarda il secondo strato, Geon, abbiamo lo stesso modello sia da uomo che da donna. La vestibilità è abbastanza abbondante, soprattutto di manica risulta appunto abbondante sia sul modello da uomo che sul modello da donna, quindi vi suggeriamo di prendere una taglia in meno nel momento in cui andate ad acquistarla. Parlando di materiali, questa giacca è realizzata in termofliss e quindi risulta estremamente calda, non solo è confortevole da indossare ma veramente ha una termicità che ci permette di utilizzarla dai 5 ai 15 gradi, quindi è il capo ideale da utilizzare nelle mezze stagioni e anche in estate ma esclusivamente ad alta quota. Non ve lo consiglierei assolutamente nelle giornate estive, molto calde. A livello di tasche qua troviamo due tasche sulla parte anteriore classiche dove andare a riporre qualche oggetto, le cerniere anche esse sono tutte fatte dai KK, sia quelle delle tasche, sia la cerniera principale che apre e chiude completamente questo secondo strato, purtroppo però non c'è il cappuccio. Io dico sempre che sui secondi strati secondo me è purtroppo grosso come una casa perché su un cappuccio vi assicuro torna veramente veramente comodo. Per quanto riguarda le prestazioni, Sara vi diceva che è veramente molto caldo, confermo, aggiungerei solamente che è un materiale anche molto windproof, quindi nel caso in cui doveste fare un'escursione in cui c'è tanto vento, anche vento freddo, questo tipo di materiale vi terrà bene al riparo evitando che si vada a disperdere il vostro calore. Passiamo alla giacca modello Namke, questo qua secondo me è il pezzo forte della collezione. Parliamo di una giacca realizzata in Gore-Tex Pack Light, una giacca veramente molto leggera che si va a richiudere su se stessa e diventa molto piccola quando andiamo a riporre nello zaino, una giacca che realizzata in Gore-Tex ha delle prestazioni di 28.000 colonne d'acqua per quanto riguarda l'impermeabilità e siamo sui 20.000 invece per quanto riguarda la traspirabilità. C'è da dire che veramente come capo da trekking, essendo anche un Arshell 2,5 strati, diciamo che ha delle prestazioni non indifferenti. Per quanto riguarda le feature di questa giacca troviamo sul cappuccio la possibilità di stringerlo per andare a proteggerci dall'acqua e dal vento. Il cappuccio è anche dotato di una parte più rigida della parte anteriore, diciamo che fa da visiera e quindi questo ci aiuta per quanto riguarda la visibilità. Sempre sul cappuccio sulla parte anteriore troviamo altri due cordini sempre per andare a stringere la giacca e renderla più aderente così da evitare l'ingresso di acqua. Continuando troviamo due tasche sulla parte addominale, una destra e una sinistra dotate di zip. Se tenute aperte queste tasche rendono la giacca un po' più traspirante e che vanno a superire le cerniere che troviamo sotto le ascelle di Arshell superiori. Per quanto riguarda i polsini troviamo qui la chiusura a velcro per andare a limitare l'ingresso di aria e di acqua. Concludiamo poi con altri due laccetti per regolare l'elasticità e l'aderenza del capo che si trovano appunto all'estremità di questo e che ci permettono ancora una volta di ridurre l'ingresso di vento e acqua. A livello di zip queste sono realizzate veramente molto bene, soprattutto quella centrale. Anche qua sono tutte, tutte i KK, quindi capite veramente quanta cura dei materiali c'è in questi Arshell e veramente vi assicuriamo che è un Arshell molto leggero, che nello zaino occupa pochissimo spazio, un Arshell che non avrete più scuse per non portarlo all'interno del vostro zaino praticamente per ogni escursione. Può essere utilizzato sicuramente per il trekking, ci sta anche per quello che può essere via ferrata eccetera. Sulla parte di alpinismo diciamo che per l'alpinismo vero e proprio non penso sia l'ideale, in quel caso prendere più un tre strati, ma per dei trekking ad alta quota allora sì. Diciamo che è un due strati e mezzo che si avvicina abbastanza a un tre strati. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo set di abbigliamento di Erab iniziando dai prezzi. Pantaloni torque, parliamo di pantaloni che costano 70-80 euro prezzi che si trovano online. Idem il secondo strato. La giacca viene venduta a 250 euro sul sito ufficiale di Erab. Capita spesso di trovare su dei siti online in sconto a 150 euro, altrimenti diciamo che il suo prezzo normale sta sui 180. A livello di prezzo direi che sono veramente degli ottimi capi. Secondo me sono dei capi d'alta gamma, quindi realizzati con determinati prodotti, con determinate cuciture eccetera, a prezzi di medi di gamma, perché vi assicuro che questo tipo di pantalone, faccio l'esempio, in matrix a 70 euro è veramente un ottimo affare. Dunque dal punto di vista diciamo dei materiali e dell'utilizzabilità, noi li consigliamo? Sì, li consigliamo soprattutto per la loro poliedricità, nel senso che possiamo veramente utilizzarli in diversi ambiti, in diversi climi, quindi è un tipo di abbigliamento che veramente andrete ad utilizzare tantissimo e soprattutto che resterà sempre confortevole e durevole nel tempo. E detto ciao ragazzi, una speranza sia stati esaurienti e esaustivi anche per questa recensione, vi ringraziamo per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!